Allora, Sicko My Self è un film del 2022 di Christopher Borli, in uscita al cinema il 5 ottobre. Tra l'altro, ieri è uscito in rete il trailer del nuovo film che si chiama Dream Scenario con Nicolas Cage. È un altro film che sembra molto interessante. Questo film io l'ho visto in anteprima ieri. Mi sono anche accattato un paio di gadget molto carini del film. Uno è la Shopper, proprio col mio colore preferito, e rosa. La Shopper. Allora, qua c'è una frase che io non so leggere in inglese ma ci proverò. Narcisists are the ones who make it. Cioè, i narcisisti sono quelli che ce la fanno, insomma, quelli che hanno successo, diciamo. E qua c'è appunto il titolo del film, Sicko of Myself. C'erano anche i poster, fighissimi. Il poster del film. Ne sono accattati due. Gli adesivi. E giustamente, visto che è un film che parla di pastiglie, c'erano anche le pastiglie. Che io non ho avuto il coraggio di prendere, ok? Che poi magari mi succede quello che è successo alla protagonista. Il film parla di questa coppia di ragazzi, piuttosto giovani. Lui è un artista che nelle sue performance artistiche, e già mi viene da ridere, ruba i mobili nei negozi, nei mobilifici. Di design, però. Ruba mobili di design. Quindi poltrone, lampade, soprattutto poltrone e sedie. E poi fa delle sculture. Non lo so, in realtà è più la performance del furto. È molto buffa sta cosa. Vi fa capire già che... E questa è una commedia, attenzione, molto disturbante. Quindi non pensate di andare a ridere. Poi vi spiego meglio come funziona. Nel senso che si ride, però, tra i denti. Lui è un narcisista incredibile. Lei sembrerebbe l'opposto, ma è una narcisista anche lei. Ma in modo diverso. Cioè, lui parla sempre solo di sé, del suo lavoro, di quanto è bravo. Ruba la scena sempre a lei quando possibile. Fondamentalmente non si interessa a niente di quello che lei fa o che dice. Cioè, diciamo che veicola sempre poi i discorsi. Anche se partono magari da qualcosa che ha fatto lei, li porta sempre verso ciò che ha fatto lui. Quindi è veramente fastidiosissimo. Ma al contempo anche molto reale, attuale. Stiamo parlando del classico narcisista. Quello di cui si parla tanto. Ultimamente parrebbe che questa cosa del narcisismo fosse una cosa prettamente maschile. Ma in realtà non è così. Non è così e si sviluppa in modi diversi. Ora, io non sono psicologo, quindi non voglio neanche entrare troppo in questo discorso, perché sicuramente finirei poi per dire le cose in modo non corretto. Però è piuttosto evidente che l'altro personaggio, lei, la ragazza, è narcisista in modo diverso. Nel senso che cerca di attirare l'attenzione mentendo. Quindi racconta un sacco di palle, fondamentalmente. E anche questo tipo di persona vi sarà capitato di incontrarla. Per questa ragione il film è abbastanza triste in un certo senso. Cioè vi porta già in una dimensione drammatica. Perché capite quanto è fastidioso e triste vedere una persona che mente su cose super erfre solo per avere un po' di attenzione, solo per sentirsi un po' importante, per avere l'attenzione e l'amore, tra virgolette, degli altri. Succede un fatto che sconvolge la protagonista, questa ragazza che vedete poi fasciata nel poster. Questo fatto, che è un evento drammatico, che non vi spoilero, le fa praticamente, le sblocca delle idee. Capisce che facendo qualcosa di molto grave potrebbe ottenere l'attenzione degli altri. E quindi decide di prendere appunto delle medicine, anche qua cerco di rimanere su quello che vedete nel trailer, che le provocano delle terribili, diciamo, ferite permanenti, quindi incurabili, delle cicatrici, delle malformazioni della pelle, che la rendono mostruosa a un certo punto. Questo perché così può avere l'attenzione innanzitutto dei suoi compagni, dei suoi amici, che però non arriva con tutta quella intensità. Quindi lei poi punterà più in alto, punterà all'attenzione mediatica. Mi fermo qua per quanto riguarda la storia, perché ci sono tante scene, tante cose da scoprire, interessanti. Quello che voglio farvi capire però è che tipo di film è, perché così possiate decidere se vederlo, ma soprattutto non andarlo a vedere con un'idea sbagliata, perché potreste trovare di fronte a una cosa che non capite. C'è un aspetto interessantissimo di Seek of Myself, che è il fatto che è un film estremamente comico, ha un'ironia nera sotto fortissima, ma nel film si riuscirà a ridere un paio di volte, perché effettivamente ci sono delle cose molto grottesche, ma è talmente angosciante e disagiante il film, talmente ti crea disagio. È un film veramente estremo a modo suo, che non riesce a ridere, un clima troppo tetro in tutta questa cosa, tetro e drammatico, al punto tale che quando sono uscito dalla visione del film, comunque soddisfattissimo, perché per me è veramente un gran bel film, per le tematiche che porta, diciamo mi è scesa quella tensione, quel fastidio, ecco, mi è andato via quel fastidio che il film procura, ho iniziato a ridere parlando con altri che l'hanno visto, insomma che erano lì con me, ho iniziato a ridere di brutto, ricordando tutti gli aneddoti che ci sono nel film, perché al momento, appunto, c'è talmente tanta angoscia dentro questo film, che non riesci proprio a godere dell'ironia. Appena esci e ti scende, ridi di brutto delle situazioni che hai visto, che sono estremamente intelligenti dal punto di vista umoristico, sono proprio interessanti, quindi è un film girato in modo molto asciutto, molto nordico, molto realistico, dove troviamo appunto personaggi estremamente reali, con problemi reali, e quello che lei fa, e quello che lui fa, perché sono due narcisisti, non è solo una, lei chiaramente fa la cosa peggiore, fa qualcosa che è autolesivo per se stessa, e questa è forse la cosa più fastidiosa, che ci mette più a disagio, vedere come, pur di avere l'attenzione di qualcuno, che possono essere i familiari, o anche gli sconosciuti, pur di avere quella, lei si distrugge, si rovina, è accecata da questo impulso, appunto, di narcisista, chiaramente dovuto a problemi psichici, che non, chiaramente non vengono esplorati, l'origine non viene esplorata, ma meglio così, perché anche noi, nel nostro piccolo, ci possiamo identificare, no, nel nostro bisogno di narcisismo, nel nostro narcisismo, scusate, perché tutti poi, alla fine, vedendo questo film, ci specchiamo, ma chi più, chi meno, chi fino al punto da essere malato, chi solo nelle piccole cose, più anche normali, insomma, la cosa, l'altro aspetto molto interessante, di Seek of Myself, è anche l'aspetto moderno, della socialità, il fatto di voler apparire al mondo, anche sotto forma di mostro, se vi fate un giretto su, adesso non vorrei essere frainteso, però la spettacolarizzazione, della deformazione, di una parte menomata, di una, tutti questi, diciamo, inestetismi, che possono essere derivati da malattie, qualunque cosa, incidenti, eccetera, oggi vengono, in qualche maniera, spettacolarizzati, e questo accade molto, per esempio, su TikTok, quindi il film vuole anche un po', diciamo, esplorare, senza condanne cose, semplicemente esplora un po' quello che è oggi, la spettacolarizzazione, di ciò che, in un certo senso, è mostruoso, cioè, è considerato, mostruoso, in un certo senso, non vorrei essere frainteso, però è, è quello che la gente fa, cioè, segue quella persona, perché ha quella deformazione lì, questo è quello che accade, che è un fenomeno, che io ho voluto anche, elaborare nella mia mente, cercare di capirne il senso, e non sono riuscito a darmi, a darmi delle risposte, perché, se da un certo punto di vista, sento che è sbagliato, che una persona abbia 300.000 follower, perché, fa, che ne so, ha una bruciatura in faccia, che la fa sembrare, insomma, che la, che la fa sembrare brutta, secondo quelli che sono i canoni estetici, e quindi, genera un effetto, di repulsione, ma attrazione, e quindi ha tanti follower, perché, è appunto, un freak, d'altro canto, io penso, che le persone, che hanno queste menomazioni, o, sono sfigurate, abbiano comunque, il diritto, di, avere un, un account, dove, mostrare le loro capacità, ma anche, se non hanno capacità, anche se non sono capaci, di fare niente, come lo sono, tantissime persone, non, non disabili, o non, diciamo, deformi, hanno il diritto, come tutti, di fare un balletto, su TikTok, e avere dei follower, quindi, vivo questo conflitto, molto forte, per questo tipo di argomento, nel senso, che da una parte, credo che, che sia giusto e bello, che, che una persona, non si nasconda, e che, che venga normalizzato, anche il fatto di avere, un braccio in meno, che, chi se ne frega, cioè, nel senso, non sei da meno degli altri, però, d'altro canto, non, non riesco, ad apprezzare molto, il fatto che, che le persone, vengono seguite, per quella, per particolarità lì, come se fosse, appunto, il pubblico, che va a vedere i freak, come accadeva nel passato, nei circhi, e cose del genere, questa cosa, mi inquieta, allora, il, il, il film parla anche di, di come, eh, ci sia una spettacolarizzazione, della mostruosità, no, della deformazione, del, dello strano, del, dell'estremo, e, quindi, è un film, veramente, molto interessante, e anche molto abile, proprio a non, a non essere giudicante, in nessun modo, secondo me, questo non è facile, sicuramente le persone, che, che andranno a vedere questo film, pensando di andare a divertirsi, o vedere qualcosa, eh, di, di trendy, di cool, si troveranno di fronte a un'esperienza completamente diversa, cioè, questo è un film, che tu vai a vedere, per riflettere su, su certe cose, ma dove, trovi comunque dell'ironia, trovi comunque, eh, del piacere cinematografico, all'interno, però, ecco, devi andarci, pensando di, di essere pronto ad accogliere, quello che ti viene raccontato, non, andando, pretendendo di, mh, vedere qualcosa che, eh, ti aspetti, questo è un po' il senso, l'ho apprezzato molto, eh, l'ho apprezzato molto, e, e ho provato questa piacevole sensazione, che provo quando vedo un bel film, intanto di ragionarci, ancora adesso ci sto pensando, mentre ne parlo con voi, sto pensando, a cosa penso, di questo tipo di disturbi, a cosa penso, in relazione anche alla mia persona, non che io abbia questi disturbi, però, eh, penso che il cinema sia appunto, fantastico da questo punto di vista, che sia quella, quella sorta di seduta di psicoanalisi, che ti fai da solo, se ne hai voglia, con i film intelligenti, e questo è uno di quei film, che, su cui puoi fare riflessioni, su di te, sugli altri, sulla società, sui tempi in cui viviamo, poi, l'altra cosa, che mi ha colpito, appunto, è proprio, questa, risata, spontanea, che mi è uscita, ogni volta che ripensavo, e chiacchieravo fuori dal cinema, ma ripensavo alle scene, e alle situazioni ideate in questo film, che, appunto, scaricate di quella tensione, sono estremamente ironiche, quindi, mi ha divertito, nel certo senso. Il film è al cinema dal 5 ottobre, se vi piace l'idea di vederlo, andatelo a vedere. Sì. Sì.